I crimini informatici vanno di pari passo all'epidemia da coronavirus e quanto è emerso dal terzo rapporto sulle minacce informatiche nel 2020 in Italia elaborato dall'Osservatorio sulla Cyber Security di Exprivia. Il servizio. L'Osservatorio Cyber Security di Exprivia, società che sede a Molfetta in provincia di Bari, ha pubblicato il terzo rapporto sulle minacce informatiche nel 2020 in Italia rilevando nei mesi di luglio, agosto e settembre un calo degli attacchi pari all'11% rispetto al periodo precedente. Dei 148 eventi registrati tra attacchi, incidenti e violazioni della privacy, la metà si è verificata a settembre. Un netto aumento dopo il calo registrato nei mesi estivi e che sembra andare di pari passo all'epidemia da coronavirus. Nel report si evidenzia che all'emergenza sanitaria continua a essere legata la maggior parte dei fenomeni segnalati mentre il settore più colpito sembra essere quello della pubblica amministrazione con i comuni tra gli obiettivi più vulnerabili. Sono triplicate le violazioni della privacy rispetto al trimestre precedente con sanzioni per i 18 milioni di euro da parte del Garante per la protezione dei dati personali. Il furto dei dati continua a essere il principale danno provocato dai criminali informatici e il phishing social engineering tra le tecniche maggiormente utilizzate. Il bersaglio più semplice è composto da utenti distratti o con poca conoscenza delle modalità di addescamento tramite email o social network. Nel nostro paese, prosegue lo studio, sono presenti quasi 7 milioni di dispositivi esposti in rete tra telecamere o smart tv, stampanti, firewall, router o tecnologie di ambito sanitario e dispositivi industriali con un numero di protocolli totalmente privi di autenticazione che raggiunge quasi le 9.000 unità. L'ultimo trimestre, afferma Domenico Raguseo, direttore Cyber Security Ex Privia, ha visto i crimini informatici seguire l'andamento della pandemia da coronavirus in Italia con una curva di crescita a settembre in corrispondenza della ripresa delle attività industriali e dello smart working. Il pool di ricerca continua a insistere sull'importanza di diffondere una cultura digitale a tutti i livelli, dai cittadini alle aziende alla pubblica amministrazione. E' sempre più importante, conclude Raguseo, investire in formazione e in sistemi di protezione che andrebbero implementati già in fase di produzione dei dispositivi per renderli meno vulnerabili.